Lezione dedicata all'Apologia di Socrate, scritta ovviamente da Platone. In questa lezione cercherò di farvi un quadro complessivo dell'opera, vedendone anche i temi principali. Il punto di partenza lo conoscete, l'avevamo già affrontato. Socrate non scrive nulla, in quanto è un sostenitore della filosofia come dialogo orale, il primato dell'oralità rispetto alla scruttura. Platone, che è il suo prediletto allievo, tra i tanti che ne ha avuto, ma tra i più giovani sicuramente il prediletto è il più brillante, diventerà il suo difensore anche dopo la morte, scriverà tantissimi dialoghi, cioè opere dialogiche e filosofiche, scriverà tutti questi dialoghi avendo come protagonista assoluto Socrate. Ma com'è possibile che l'allievo per omaggiare il maestro decida di scrivere nel momento in cui il maestro ha detto che la scrittura invece è inadeguata, scrive nella consapevolezza che la filosofia è innanzitutto oralità, ma per lasciare ai successori, ai posteriori, dei dati, delle informazioni, cosa fa? Scrive. Dunque c'è una scrittura finalizzata a lasciare ad altri il pensiero, ma Platone, come ci ribadisce nella lettera settima, una delle lettere che scrive Platone, sostiene, come ci dice nella lettera settima, che la filosofia sia soprattutto oralità. Non dovete dunque vedere la scrittura in Platone come un tradimento della non scrittura in Socrate. Socrate non scrive perché la scrittura è inadeguata alla filosofia. Platone considera la filosofia oralità, ma decide di scrivere per lasciare appunto ai posteri traccia del pensiero, per lasciare del materiale su cui continuano la filosofia, e sceglie come forma il dialogo, perché tra tutte le forme di scrittura, quella più aperta, quella più in divenire, quella più arricchente è il dialogo, perché ogni volta leggendo un dialogo entro una dinamica di domanda-risposta, domanda-risposta, e rileggere un dialogo magari cent'anni, mille anni, duemila anni dopo, come capita a noi, rileggere un dialogo dopo anche migliaia di anni ti può innescare un circolo virtuoso di domanda a cui cerco di dare una risposta. È chiaro, dunque, il dialogo tra tutte le forme di scrittura è quello meno, la forma di scrittura è meno inadeguata, è la forma di scrittura più, diciamo, ricca e fertile, perché rimane aperta, va bene? Ma l'Apologia di Socrate, che è uno scritto giovanile appunto di Platone, non è un vero e proprio dialogo, bensì è un, più che dialogo, monologo, è un monologo perché è la ringa difensiva di Socrate, l'Apologia di Socrate è dunque la difesa di Socrate chiamato a processo nel 399 ad Atene, è chiaro? Ad Atene è chiamato a processo. Cosa è accaduto? Perché Socrate è chiamato a processo? Dovete distinguere le motivazioni filosofiche e quelle politiche. È un processo filosofico e politico, c'è una dimensione storica-politica e c'è una dimensione storica-filosofica. Il contesto e poi andiamo all'opera. L'Apologia di Socrate, mi ha detto, è un atto di amore di Platone nei confronti di Socrate, dunque si intitola Apologia, non Processo a Socrate. Policrate, che è un democratico, anche avversario di Socrate, scriverà un'opera intitola di Processo a Socrate. In quell'opera viene presentato il processo e viene anche criticato Socrate, in maniera anche abbastanza dura. Si intitola Il Processo a Socrate e non l'Apologia di Socrate. Dunque già il titolo di Platone, a differenza di quello Policrate, ci testimonia un atto d'amore, un'adesione. Apologia vuol dire esaltazione di Socrate. Dunque Platone non si maschera, non camuffa la sua adesione verso Socrate, altrimenti non l'avrebbe intitulato così. Invece è Apologia di Socrate, un'esaltazione del maestro, del filosofo, del giusto tra i giusti, del virtuoso tra i virtuosi. Questo documento va dunque intersecato, va intrecciato con altri documenti per avere la veridicità. Questo documento è un'esaltazione. Ma non è solo che il processo c'è stato, le accuse sono abbastanza quelle che ci riporta Platone, i nemici sono gli stessi, che ci indica Platone, cioè i sofisti. I sofisti di terza generazione, Meleto, Anito, sono effettivamente i nemici di Socrate. Andiamo al contesto. Cosa accade ad Atene? Ad Atene, dopo l'esperienza politica dei 30 tiranni, il governo cappeggiato da Crizia, c'è un colpo di stato nei primi anni del 400, da saperla questa cosa qua, ne parla a metà, adesso ci arrivo. Nei primi anni del 400 c'è un colpo di stato in seguito alla sconfitta di Atene nelle guerre del Peloponneso. Il malomore, il malcontento per questa sconfitta cresce e un gruppo di nobili, di aristocratici, cappeggiati da Crizia, realizza un colpo di stato. Questo colpo di stato darà vita a quell'esperienza politica che si chiama governo dei 30 tiranni. Basta. Atene in mano a politici deboli. Corrotti, incapaci. Serve una svolta forte, autoritaria. Autoritaria e autorevole. Questi 30 uomini cappeggiati da Crizia, che è anche un parente di Platone, è chiaro? Crizia è lo zio di Platone, già così come un contesto, prendono il potere e governano per più di un anno, per questi due anni, Atene. Governano incarcerando molti democratici, tra cui anche molti sofisti. Dunque c'è una violenza anche politica durante il governo dei 30 tiranni. Durante questo governo dei 30 tiranni, storicamente, poi arriviamo all'apologia, Socrate non si è schierato né a favore, ma neanche contro. Cioè, Socrate non si è schierato contro i tiranni. Perché Socrate comunque, come lo sarà Platone, non è un democratico. Ma in questo caso non parteggia né per la fazione dei democratici sollevata dai 30 tiranni, né appoggia i 30 tiranni. Rimane in una posizione abbastanza mediana, di mezzo. Ma il fatto che non li abbia condannati, anzi, alcuni dicono, il fatto che abbia anche insegnato a molti di loro. Crizia fu allievo di Socrate, Socrate ha insegnato a Crizia. Dunque il fatto che molti di questi 30 tiranni abbiano anche avuto delle lezioni, però delle lezioni da Socrate come da altri sofisti, perché Socrate, vi ripeto, è comunque un sofista, conosceva le arti della retorica, dell'allettica e dell'oratorio. Nonostante poi sia un nemico della sofistica, soprattutto il Socrate Platonico, il fatto che fosse amico di alcuni di essi lo ha portato ad essere considerato un collaborazionista. Va bene? Quando i democratici, crollati i 30 tiranni, tornano al potere, i democratici cominciano a vendicarsi di coloro che in quegli anni hanno appoggiato il governo dei tra tiranni. E Socrate finisce sotto le grimpie dei democratici che ritorno. Ma questi democratici non sono i democratici di Pericle, non è la democrazia trionfante, qualora abbia trionfato e fosse trionfante quella di Pericle. È una democrazia abbastanza mediocre e corrotta secondo quello che dice Platone e quello che dice anche altri. Dunque, in questo ritorno della democrazia molti vengono arrestati e viene arrestato anche Socrate. Perché... Quando ritorna la democrazia? Sì, sì, sì. Quando ritorna la democrazia. La democrazia lo processa e lo condanna. Lo condanna a morte. Va bene? Questo è il contesto. Sicuramente Meleto e Anito giocano un ruolo decisivo perché sono rancorosi. Meleto fu un allievo di Socrate ma si ribella poi al maestro. Va bene? E Anito è anche il padre di un ragazzo che secondo Anito stesso sono traviato da Socrate. Dunque noi abbiamo in Meleto e Anito le accuse di corruzione dei giovani e di insegnare le cose sbagliate ai giovani. Dunque l'apologia di Socrate di Platone nonostante sia un testo da appunto soppesare perché un testo di Platone va bene? Parente di Crizia un nemico della democrazia Platone un allievo innamorato di Socrate nonostante ci sia questo presupposto l'apologia di Socrate diventa rimane diventa e rimarrà secondo me nell'eternità degli evergreen della filosofia un inno comunque alla libertà di insegnamento perché Socrate difende la sua libertà di insegnamento rimane un inno diciamo alla distanza che deve avere un intellettuale dal potere l'intellettuale secondo Socrate non deve piegarsi al potere deve venire indipendente e rimane anche un'opera in cui c'è una vera e propria esaltazione della vita come ricerca l'unica vita degna di essere vissuta se facessi questa domanda giovedì è quella della ricerca se non posso ricercare in maniera libera è meglio la morte meglio morire che condurre una vita senza dignità e la dignità sta nella ricerca una vita senza ricerca è l'idea di essere vissuta quando la corte la giuria propone a Socrate in cambio della vita di rimanere in vita di vivere senza insegnare pagando una multa Socrate risponderà io non ho fatto nulla però non pago una multa inoltre non vivo senza insegnare filosofia è chiaro rigettando questa sentenza si autocondanna diciamo a morte lui aveva ancora la possibilità di salvarsi pagando un'ammenda e decidendo di vivere o fuori d'Atene o in una casetta ad Atene senza più intervenire nella vita pubblica nella vita della polis va bene adesso però vediamo l'apologia con questa premessa è uno dei scritti giovanili di Platone uno dei scritti successivi ovviamente alla morte di Socrate negli anni successivi e alcuni anche anni successivi ed appunto un'opera strutturata in tre parti perché c'è la prima parte in cui Socrate si difende delle accuse antiche e recenti poi c'è la seconda parte in cui rigetta la prima sentenza e c'è una terza parte in cui dopo la condanna a morte saluta il celeberrimo commiato prego Alice secondo Socrate una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta pertanto pertanto secondo Socrate vivere implica avere la libertà di insegnamento di scelta vivere significa essere autonomi dal potere va bene essere autonomo dal potere e quest'opera ce lo dice con forza in maniera nitida ok tre parti la prima parte Socrate nella prima parte si difende dalle accuse antiche e recenti e Socrate cosa ci dice già nelle prime pagine che è vecchiotto perché mai ci dice alla sua veneranda età si sarebbe immaginato di presentarsi a processo sempre nelle prime parte quale impressione abbiate provata voi o cittadini di Atena le parole dei miei accusatori io non so certo è che anch'io a quelle parole per poco non mi dimenticai di me stesso con tale accento di persuasione essi parlarono e si che vero permettetemi proprio nulla costoro hanno detto tra le molte cose non vere che dissero una massimamente mi fece meraviglia questa quando dissero che bisognava voi steste ben attenti a non lasciarvi trarre in inganno da me come uno che sia abilissimo a parlare andando avanti dirà che mai se l'ha immaginato appunto dopo una vita di insegnamento di doversi difendere da queste cose punto di importanza è questo mi hanno accusato mi hanno accusato talmente bene che quasi anch'io mi stavo per convincermi sofisti eccoli usano talmente bene le parole che mi stavano per convincere della mia colpevolezza e allora se stavano per convincere me della mia colpevolezza chissà quanti di voi saranno stati convinti della mia colpevolezza dunque all'inizio Socrate ci dice che sarà difficilissimo difendersi perché perché i suoi accusatori hanno l'arma della dialettica dell'oratorio della retorica e sanno in maniera persuasiva convincere e io dirà non ho scelto di affidarmi come un avvocato ma ho scelto di difendermi in prima persona io vi prego vi supplico se voi direte che nel difendermi io adopererò quelle stesse parole che sono solito adoperare anche in piazza davanti ai banchi dei trapeziti dove molti di voi già mi hanno ascoltato io mi difenderò come ho sempre parlato in piazza ai miei allievi ai miei studenti ai miei amici dunque io userò le stesse parole vengo e sono io quel Socrate che avete sempre conosciuto e quello che muoverà è solo questo il dovere di dire la verità Socrate gioca subito a carte scoperte io la prendo per vero mi difenderò avendo un'unica via la verità la verità sarà il cuore della mia difesa va bene non mi lanterò non farò il parolaio paroliere va bene non farò colui che gioca con le parole il giocogliere della parola ma cercherò di rimanere fedele alla verità e inizia la prima accusa avevo già vista in parte la scorsa volta è quella è quella più calugnosa ed è quella che come un fiume che scorre da tempo ha ovviamente scavato maggiormente nel terreno e dunque la difesa più difficile perché? perché l'accusa è quella più reiterata ed è questa Socrate è reo e si dà a fare in cose che non gli spettano investigando quel che c'è sotto terra e quel che è in cielo tentando far apparire migliore la ragione peggiore e questo medesimo insegnando altrui ecco Socrate di cosa è colpevole è reo di investigare le cose che erano in cielo e in terra voi ma sottolineatelo da parte del vostro libro ok è la prima parte di tutte edizioni diverse dunque siamo ok dovremmo essere il c dipende poi se vedete 29 c però ognuna edizione è diversa c'è chi ha i numerini a fianco c'è chi ha la traduzione a fianco c'è chi non ce l'ha e l'accusa è quella di investigare le cose che stanno in cielo e sotto terra cioè le cose inutili le cose pericolose le cose che distraggono i ragazzi da una crescita ferrea rigida da una crescita sui valori e le conoscenze tradizionali si impara a scuola si impara dai mestri tecniche si impara dai genitori lo traduco in maniera molto semplice ma quante balle in testa vi sta mettendo questo Socrate è chiaro? questi allievi di Socrate pensano soprattutto loro quel maestro un ciarlatano un cialtrone cosa va a insegnare loro? perché l'accusa diventa pesantissima nel secondo passaggio gli indaga gli fa indagare le cose in cielo indaga le cose in cielo e in terra gli stimola ad indagare le cose in cielo e in terra dunque insegna ai nostri ragazzi le cose pericolose e inutile dunque è un insegnante cattivo è un cattivo maestro Socrate come si difende? difesa abbastanza empirica Socrate dice io ho passato la mia vita a insegnare ai giovani è vero ma se qualcuno se qualcuno mi ha sentito dire che io insegnassi loro queste cose futili inutili pericolose sbagliate se qualcuno ha udito le mie lezioni indirizzate verso la menzogna mi ha pregato di farsi avanti di prendere la parola per queste accuse me le ha mosse un tal Aristofane l'autore delle nuvole Aristofane nelle nuvole ubica Socrate su un pensatoio in cielo sulle nuvole dunque Socrate con la testa tra le nuvole ma che insegna ai ragazzi ad andare lontano dalla città dalle tradizioni dei valori della Grecia e dunque li porta lontano e li sta educando in modo sbagliato ma Aristofane ha scritto questo e Aristofane non c'è più qualcuno ha conto di dire le stesse cose di Aristofane ma qualcuno mi ha mai sentito fare questo se qualcuno lo ha sentito è pregato di prendere la parola nessuno si alza però è pericoloso dice perché di diceria in diceria queste calugne sono diventate alle orecchie di molti di voi verità ma come vedete nel momento in cui vi chiedo se qualcuno le ha udite direttamente queste cose nessuno di voi può dirlo nessuno di voi può alzarsi in piedi perché è soltanto un sentito dire del sentito dire ma molte cose si sentono dire non ho detto che siano vere è chiaro? è la prima accusa è la prima difesa la seconda abbiamo visto l'altro giorno andiamo un po' veloce non c'è nulla di vero come non c'è nulla di vero nel fatto che io insegni a pagamento sebbene in fondo solo uno è capace di istruire uomini come fanno Gorgia di Leontini e Prodico di Ceo e Ippia di Elide mi parrebbe cosa tutt'altro che riprovevole queste brave persone girano città in città e istruiscono i giovani ai quali sarebbe pur facile senza spendere farsi istruire da chiunque vogliano di loro concittadini ma si vede che se vanno da loro è perché valgono perché meritano e io non ne sono capace rovescia con ironia l'accusa di insegnare a pagamento io vorrei insegnare a pagamento ironia qua è falso io non insegnare a pagamento vorrei ma si vede che siccome nessuno da me viene a ricevere lezioni a pagamento vorrei dire che non ne sono in grado non sono bravo come Ippia Gorgia da cui voi umate i vostri figli e poi l'esempio l'altra volta ad esempio Caglia figlio di Ipponico a costui che ha due figli io gli domandai e Caglia tanto è presente come mai in questi giorni questi tuoi figli belli e bravi li stai mandando da un tal Eveno di Paro c'è Eveno di Paro un noto sofista che insegnava pagamento era quello che si faceva pagare forse più di tutti si fa pagare più di tutti perché sarà il migliore ebbene Caglia tu stai in mano dei tuoi giovani figli forse perché i tuoi figli sono così giovani e belli e vuoi che rimangano giovani e belli e che crescano sempre belli li stai in mano di Meo di Paro probabilmente io non ne sono in grado fai bene questa è la tecnica dell'ironia l'arte del far cadere in contraddizione l'interlocutore voi mi accusate di insegnare a pagamento ma io vi dimostro che ste voi a mandare i vostri figli ad insegnanti a pagamento a lezioni a pagamento se dunque insegnare a pagamento è una cosa così riprovevole perché voi mati i vostri figli da insegnanti che si fanno pagare profumatamente se insegnare a pagamento è una cosa sbagliata allora voi state sbagliando perché fate i soldi per insegnanti a pagamento è chiaro? se invece non lo è perché mi accusate di aver commesso il reato di insegnare a pagamento questa è la seconda accusa antica da cui si difende con la tecnica dell'ironia cioè del rovesciamento della tesi dell'avversario del far cadere in contraddizione passiamo a un altro passaggio che poi li avete tutti voi che l'avete letta vi date solo a rivedere mi accusa non è una propria accusa ma riecheggia in platea in tribunale riecheggia in città il fatto che io sia convinto di essere il più sapiente di tutti che io vada in giro che non è un'accusa è questa è una però convinzione che tutti anni che io tutti hanno che io mi vanti pubblicamente di essere appunto un sapiente guardate io vi posso dire che ci fu un giorno in cui incuriosito da questa questione decisi di mandare Aristodemo un mio carissimo un mio carissimo allievo presso l'oracolo di Delfi e Aristodemo si recò a Delfi con la seguente questione porre all'oracolo la domanda chi è il più sapiente di Atene chi è il più sapiente della Grecia e quando Aristodemo tornò con la risposta io rimasi stupito perché Aristodemo mi disse che l'oracolo di Delfi gli riferì che il più sapiente della Grecia il più sapiente tra i sapienti ero io ma perché ero io io che sapevo di non sapere a questo punto emerge il tema dell'ignoranza della sapienza come consapevolezza di non sapere perché il peggior ignorante è colui che pensa di sapere invece colui che sa di non sapere è il primo dei sapienti a questo punto stupito dalla risposta all'oracolo di Delfi ho cominciato ad interrogare girando per la città coloro che si professavano nella loro arte le loro tecniche nel loro campo sapienti e così passai dagli artigiani dai giudici dai poeti ai politici e mi accorsi del perché l'oracolo di Delfi avesse indicato me come sapiente perché tutti coloro con cui interloquivo tutti coloro a cui ponevo delle domande si mostravano supponenti e convinti di sapere ma la prova dei fatti avevano molte lacune erano molto ignoranti ma erano convinti di possedere la mia sapienza dunque la mia sapienza risiede nell'ignoranza invece l'ignoranza dei miei interlocutori risiede nella loro convinzione di sapienza ecco perché l'oracolo di Delfi mi ha indicato come sapiente perché la prima cosa da fare per far filosofia per indagare per andare a cercare la virtù la verità è quello di ammettere di essere ignorante la vita filosofica per Socrate è una ricerca della verità la verità risiede dentro di noi conosce te stesso emerge maieutica aiutata da un filosofo ed emergerà una definizione cos'è il giusto cos'è il bello cos'è la felicità ma a questa verità si arriva se si parte dal presupposto di non conoscere di non sapere e l'oracolo di Delfi ha dunque indicato il sottoscritto come sapiente perché ha sempre fatto ammissione di ignoranza dunque l'ignoranza l'ironia pilastri del dialogo socratico e voi sul vostro libro vate a individuare il passaggio dell'oracolo di Delfi è chiaro? ce la facciamo seconda parte no sempre prima parte ma nella seconda parte della prima parte vi è la difesa dalle accuse recenti quali sono le accuse recenti? le accuse recenti sono due quella di non credere negli dei e di corrompere i giovani sono accusato da voi Meleto e Anito di non credere agli dei e di corrompere i giovani dunque di non credere negli dei e di insegnare ai giovani la corruzione dell'anima di corrompere partiamo dagli dei mi avete sentito andare in giro a negare gli dei sì ma siete sicuri non credere le idee e corrompere i giovani partiamo dal tema del non credere gli dei mi avete sentito andare in giro a professare la non esistenza di dei sì siete qui sicuri o mi avete sentito andare in giro a parlare di demoni dai ah no ti abbiamo sentito ti abbiamo sentito in giro professare la credenza dei demoni ma chi sono i demoni è vero che i demoni sono i figli degli dei degli uomini sì e allora cari sofisti cari Anito caro Meleto io sarei così stolto da insegnare la credenza nei demoni che sono i figli degli dei e degli uomini e al contempo negare l'esistenza degli dei sarebbe come insegnare l'esistenza la credenza e l'esistenza dei muli che sono i figli dei cavalli degli asini e al contempo negare ad esempio l'esistenza dei cavalli se esistono i muli esistono gli asini e i cavalli da cui i muli sono generati se esistono i demoni esistono gli uomini e gli uomini esistono, ma esistono anche gli dèi che con gli uomini i demoni generano. Questa è l'applicazione della dialettica, della retorica, dell'oratoria e della logica. In filosofia non ci si deve contraddire. Se tu mi accusi, e io mostro che la tua tesi è contraddittoria, la tua tesi cade, decade. Mi accusi di non credere negli dèi, ma io credo nei demoni. E se credo nei demoni vuol dire che credo indirettamente nell'esistenza degli dèi. Che cos'è il demone per Socrate? Il demone è una divinità un po' personale, ognuno ha un demone. C'è chi ha interpretato tutto ciò come la coscienza. Si può anche, però è difficile pensare che Socrate quando si riferiva ai demoni parlasse di coscienza. Parlare con il demone interiore significava parlare con una divinità però quasi ad personam, personale, con la quale si andava alla ricerca della verità. Però l'altro è vero che possiamo anche immaginare questo demone come la nostra coscienza. E dunque la filosofia è dialogo incessante con la propria coscienza, oppure con il proprio demone interiore. Oggi pomeriggio vi mettete lì, ok? Parlate con voi stessi, con il vostro demone interiore, alla ricerca della verità. Cosa voglio fare da grande? Il dialogo passa attraverso la giovedì del Dio. Seconda accusa recente. La seconda accusa recente è la più infamante. Giovedì, l'altro che ti dico, prendi la seconda accusa recente. Leggila, analizzala, commentala. La seconda accusa recente è qui di corrompere i giovani. Sei accusato di corrompere i giovani. Questa accusa è infamante. Questa è l'accusa principe. E riecheggiava già nell'accusa antica, nella prima, di insegnare ad andare in cielo o sotto terra ai giovani. Dunque di corromperli. Ma di corromperli volontariamente o volontariamente? Chiede. Mi accuso di corrompere, ma io farei tutto ciò. Volontariamente? Corrompo per corrompere? O lo faccio involontariamente? Volontariamente, addirittura, gli rispondono. Io sarei arrivato a un livello di stupidità, di stoltezza tale, da non sapere che chi corrompe, chi gli è vicino, riceve del male. Essere dei corruttori dei propri allievi, cioè essere volontariamente dei cattivi maestri, cioè fare del male a chi ti è vicino, significa poi ricevere del male. Io sono così stolto, li prende un po', no, la sprovvista, così stolto, cioè io faccio volontariamente del male a chi mi sta vicino. non potete dirmi questo. Se io faccio del male, lo faccio eventualmente involontariamente. Sono gli stupidi, fanno del male, sapendo di voler fare del male. E non sono ridotto così. Se ho fatto del male, l'ho fatto involontariamente. Io pensavo di fare l'oro del bene, invece ho fatto l'oro del male. Ma se ho fatto l'oro del male involontariamente, sapete cosa dovete farmi? Rieducarmi. Spiegatemi dove ho sbagliato e rieducatemi. Perché chi sbaglia, per Socrate, lo fa perché non conosce il bene. Questo è il passaggio più importante in tecologia. In questo passaggio emerge, in modo piano, l'intellettualismo etico di Socrate. Secondo Socrate, intellettualismo etico, l'uomo si comporta, etico, etica, in base a quello che conosce. Come conosco, cosa conosco, così mi comporto. intelletto, etica, sono collegati. Se io conosco il bene, faccio il? Se non conosco il bene, non faccio il bene, cioè faccio il male. Per Socrate, il male dunque è un'assenza di bene. Il male non esiste, per Socrate. Il male è una forma di ignoranza di bene. Questa è una teoria molto forte, provocatoria, bellissima. Non dici anche che nessuno ha mai intenzione di fare del male perché non conosce il male? nessuno, molto bene Andrea, nessuno ha mai l'intenzionalità del male. Quando una persona agisce, pensa che quello sia il bene per sé, per gli altri, per l'amico. Poi non è il bene, ma deve conoscere il bene per sapere quello che non è il bene. perché è ignorante. Questa teoria che non tiene conto però del tema della volontà, uno può volere il male. Io posso conoscere poi il bene e non farlo perché non voglio fare il bene, dunque fare il male. Invece Socrate, ottimista, scrivetelo bene, della ragione, pensa che una volta ha conosciuto il bene, le persone si comportino bene. Platone ci dirà qualcosa in più nella sua filosofia. Uno per fare il bene deve conoscere il bene. Allora ragazzi, se tu cresci in una famiglia camorrista e non conosci mai il bene, è difficile che tu possa fare il bene. Dunque per fare il bene, tuo papà è un venditore di armi, ok? E tu sei figlio di quella cultura della morte perché non hai incusso nessun altro, va bene? Tu vivi una famiglia di violenza, la violenza è la regola del comportamento. Se tu non conosci altro che quel non bene, è difficile che tu faccia il bene. Dunque, ritorno, per fare il bene devi conoscere il bene. Ma per Socrate una volta che lo conosci lo fai. Invece noi possiamo dire che una volta che lo conosci devi volerlo fare il bene. E Platone dice, dirà, Platone qua, per fare il bene devi conoscere il bene. Ma una volta conosciuto devi volerlo anche il bene. Per Socrate chi conosce il bene vuole poi il bene. E Socrate è facilmente cristianizzabile. Facile, faccio il provamento, chi conosce Dio amerà Dio. coloro che non amano Dio perché Dio non lo conoscono. Socrate è uno degli autori che sarà maggiormente cristianizzato. Perché in Socrate il cristianesimo può emergere facilmente. Cosa trovi dentro te stesso? La fede. Una volta che trovi la fede, ami Dio. Quando trovi la fede non puoi chiamare Dio. Se non ami Dio perché non hai trovato la fede? Ma una volta che c'è la fede ci di conseguenza l'amore per Dio. È chiaro? Dunque, intellettualismo etico. Una volta conosciuto il bene l'uomo non può che fare il bene. Ovviamente il tema della psicanalisi freudiana dell'inconscio che guida le nostre azioni non c'è in Socrate. È chiaro? Noi sappiamo che c'è una sfera sappiamo, se crediamo alla psicanalisi, c'è una sfera della nostra psiche, della nostra mente che stimola il nostro comportamento senza che noi ce ne rendiamo conto. Comunque c'è una sfera oscura. Socrate invece parla di una mente come una cosa evidente, palese, sempre accessibile. Dunque, se con la mia mente conosco il bene faccio il bene. Invece noi sappiamo che la nostra mente è più complessa. A volte ho delle pulsioni di Eros o di Thanatos, cioè di amore e di morte che guidano il nostro agire. Va bene? E dunque non tutto quello che è nel nostro comportamento è pienamente sotto o con il controllo del nostro intelletto. Invece Socrate è un esaltatore. Va bene? Dopo essersi così difeso ci sono ancora due riferimenti importanti che fa Socrate. Voi sostenete che io sia stato un amico dei politici. Era quello di due episodi. Il primo è quello della battaglia importante che c'è stata in Sicilia nel 415 una battaglia navale. Io all'epoca partecipavo all'assemblea dei cittadini. La mia famiglia aveva l'incarico di partecipare all'assemblea. L'assemblea in quel giorno si trovava di fronte a una scena difficilissima. Condannare a morte o meno i capi navali che in battaglia persa decisero di scappare lasciando alcuni feriti in mare e i cadaveri in mare. Ripeto la battaglia terminò con la fuga dei nostri capi militari navali e l'assemblea di cui io facevo parte all'epoca doveva giudicare se condannarli a morte o meno. Dunque quei capi democratici militari la democrazia mi chiese se condannarli a morte e tutti votarono per la condanna a morte perché non si può lasciare il soldato ferito da solo morire non si possono recuperare i cadaveri per non dare una degna sepoltura ma io dissi che date le condizioni della guerra date le condizioni del tempo del mare tempestoso burrascoso i capi militari non potevano fermarsi e dunque io nonostante tutti la maggior parte avesse votato per la condanna a morte io votai secondo la mia coscienza dimostra di essere indipendente al governo democratico perché il governo democratico chiedeva la condanna a morte di quei capi militari e lui contro la democrazia votò per salvare la vita indipendente dei democratici e poi e poi ancora una cosa dice mi accorso di essere amico di tre tiranni ma io vi ricordo che Cristo un giorno mi chiamò chiamò me Socrate con altri uomini di Atene per andare a catturare Leone di Salamina Leone di Salamina fu un comandante democratico molto molto famoso ed era scappato i tre tiranni non riescono a catturarlo scappa quando c'è il colpo di stato e si è rifiutato in un'altra città io con altri dovevamo andare come delegazione a chiedere di avere Leone di Salamina arrestarlo portarlo ad Atene e condannarlo a morte io Acrizia che voi mi dite essere stato mio allievo di è vero e dunque mi dite di essere stato un suo poi alla fine servo obbediente io Acrizia risposto di no perché perché Leone di Salamina fu uomo di virtù d'animo di nobiltà d'animo e di grandezza politica e militare e a un uomo di grandezza d'animo non si dà la morte e io ritornai a casa mia voltando le spalle Acrizia dunque primo episodio indipendenza dai democratici secondo episodio indipendenza dai dei tiranni io ho sempre seguito Leone di Salamina un capo militare democratico è chiaro si è sempre dimostrato indipendente andiamo in chiusura fatemi finire anche solo così meno poi siamo a posto a questo punto Socrate è condannato a pagare una multa e a non professare più l'insegnamento ma Socrate nel secondo discorso dirà una vita senza insegnamento deve essere vissuta e non dovrei io pagare voi ma voi pagare me per tutto quello che ho fatto per la mia città con questa difesa si consegna chiaramente la condanna a morte lui è stupito di quanti lo avessero comunque salvato chiaro seconda votazione condannato a morte alcuni ancora continuano a salvarlo li ringrazia e prende la parola e dice io vado io vado incontro alla morte ma non la temo perché la morte può essere solo due cose innanzitutto la morte non va temuta perché nessuno sa cosa sia solo il presuntuoso il vero ignorante lui che pensa di sapere ma non sa giudica male la morte ma poi il massimo può essere due cose la morte o un lungo sonno cioè i sensi spariscono svaniscono cadiamo nel nulla in una notte che non è mai fine ma cosa c'è di più bello di una notte eterna cioè senza incubi senza una notte senza incubi una notte senza senza turbamenti anche il gran sultano di persia vorrebbe dormire una notte senza turbamenti è chiaro dunque una sorta di dolce morte la morte come nulla dunque dopo la morte non c'è nulla bene se dopo la morte c'è qualcosa c'è una rinascita benvenga la morte così ognuno di noi avrà l'opportunità di rincontrare i propri cari io vorrei incontrare Romero io vorrei incontrare i grandi intellettuali del passato vorrei incontrare il giudice Minosse se io morirò e quello che mi spetterà non sarà un grande sonno ma una rinascita io nell'Ade avrò delle persone con cui dialogare pensate questi poverini che si ritornerebbero anche Socrate che nell'aldilà gli va a farmi le domande e poi lo sto scherzando però Socrate effettivamente se in cosa è importante Socrate ti fermava tre o quattro ore non vi dirò di andare a casa perché parlavo in continuazione chiudo voi lo oggete poi bene anche voi con il commiato voce aulica da saper commentare l'orale si l'ha ancora andato a morte e lui saluta Gaia ebbene anche voi o giudici dovete bene sperare dinnanzi alla morte e aver nell'animo che una cosa è vera questa che a uomo da bene non è possibile intervenga male veruno né in vita né in morte e tutto ciò che interviene è ordinato dalla benevolenza degli dèi e così anche quello che capita a me ora non è opera del caso e anzi vedo manifestatamente che per me oramai morire liberarmi da ogni pene e fastidio era la cosa migliore per questo il sogno del Dio mai una volta cercò farmi piegare dalla mia strada per questo nessun rancore io ho con coloro che mi votarono contro né con i miei accusatori sebbene non certo con questa intenzione essi mi condannarono e mi accusarono ma credo anzi credo anzi di farmi del male e perciò sono degni di biasi ora io costorno da fare altra preghiera che questa i miei figli e sono davanti quando siano fatti grandi castigateli o cittadini cagionando loro gli stessi fastidi che io cagionavo a voi se a voi sembra sia si diano cura delle ricchezze di beni altrui piuttosto che della virtù e se Dio non mostra di essere qualcosa che non essendo pur non essendo nulla svergognatevi come io svergognavo voi che non curino ciò che dovrebbero e credono valere qualcosa non valendo nulla se così farete io avrò avuto da voi quello che era giusto che avessi io e i miei figlioli ma ecco che è l'ora di andare io a morire e voi a vivere chi di noi due vada verso futuro migliore e oscuro a tutti fuorché fuorché a Dio fuori anche a Dio cioè solo gli dei sapranno se è migliore la mia vita verso la morte o la vostra rimanendo qua in vita dopo aver commesso questa giustizia legale ma ingiustizia morale chiudo dicendovi l'insegnamento di Socrate la legge è sbagliata no la legge è giusta la legge è applicata male forse ma io obbedisco dunque Socrate obbedisce ad una legge applicata in maniera sbagliata come atto d'amore verso la sua città dunque disobbedisce moralmente ma obbedisce poi legalmente è chiaro dunque c'è un'obbedienza verso la città la città sta sbagliando quelle leggi che erano giuste oggi vengono applicate in maniera sbagliata io non sono corrotto io non fungo perché non sono un ladro ma vi chiedo ancora una cosa se i miei figli si mostreranno qualcosa senza valer nulla si vivranno per la ricchezza per la bellezza del corpo ma non per la ricchezza la bellezza dell'animo voi castigatevi come ho chiesto da tu io perché la bellezza del corpo e la ricchezza del denaro sono evanescenti possono essersi possono sparire invece la bellezza interiore la virtù dell'anima la verità che si conquista è un bene duraturo e dunque il miglior insegnamento dovete dare ai miei figli è castigarli se sono vanesi falsi fasulli chi pensa di avere qualcosa senza valer nulla fa del danno a se stesso e alla comunità pensate a questo insegnamento fortissimo di Socrate che a quel punto va in carcere ok? attenderà la morte che arriverà dopo un certo periodo perché ci sono anche delle festività religiose potrà scappare quindi se l'ecritore non scapperà e avrà poi l'onore della morte dolce non invasiva la cicuta la cicuta veniva data soltanto alle persone nobili e danno dunque gli riconoscono lo status filosofico intellettuale importante dandogli una dolce morte attraverso la cicuta che aumenta di città di città Grazie.